Tappa obbligata, quella della fontana di Trevi, c'è un clima direi incredibilmente mite, siamo in un regime invernale ma si sta veramente bene. È vera questa credenza della monetina? Sì, penso di sì, è verissimo. Avete lanciato la vostra monetina? Certo. Espresso il vostro desiderio? Sicuramente. Da dove venite? Noi da Napoli. È vero che il mondo è napoletano? Sì. Dovunque ci sono napoletani, anche noi lo siamo, grazie ragazzi. E quindi loro lanciano la moneta, anche noi la nostra. Desire. 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 Prepariamo la nostra monetina, poi c'è sempre qualcuno che questa notte verrà a raccoglierle, guadagnerà un sacco di soldini. Attenzione ragazzi, se volete, ahia, se volete esprimete il desiderio insieme a me, vieni che facciamo, qual è il tuo desiderio? Come? Qual è il tuo desiderio? Cosa stai pensando per lanciare la monetina? Muy, muy bello. È bello, bellissimo. Da dove venite? Lui è italiano, si vede. Spagnolo. Spagnolo, gli italiani e spagnoli in stessa faccia, molto così. Hai già lanciato monetina? Pensato desiderio? Quale? Non si può dire. Che vi sposate? Todavía no, però può essere. Come? Può essere se il desiderio si cumple. Ah, può essere, può essere. Grazie. Ciao. What's your name? Qual è il tuo nome? Antonio. Antonio? Agni. Agni. Auguri, ciao. Allora, lanciamo questa monetina, io esprimo il mio desiderio. Attenzione che ci penso un attimo. Allora, signore, signori. Allora, signori. Allora, signori. Allora, signori. Allora, signori. Come stai? Bien. Beh, parla italiano. No. Lanciato monetina. Eh? You put your coin inside the fountain? Yeah, I did. No. Can you... Can... Can... Oh, yeah. I'm sorry. Another coin. Please, say me, what is your desire? What do you think about? What do I think about what? Do you know? When you put the coin... My wish? Yeah, you wish. I can't tell you, it won't come true if I tell you. Ah, non me lo può dire, non me lo può dire, non si può sapere. Ok. Grazie. Dici tu, dai, che desiderio stai esprimendo. No, no, non ti può dire. Sennò non si, non si seudisce. No, bravo, bravo. Dai, ti seguiamo mentre lo lanci, vai. No, dai. Fare queste cose, è un piacere. Beh, bellissima. Ti immortaliamo in questo momento. Ti portiamo ancora più fortuna. Eccolo qui. Bene, Daniele Croce, Fontana di Trevi, Roma.